Chissà in quanti, visitando il sito archeologico di Veleia, si siano chiesti come nell'antica Roma si presentava la cittadina dell'Alta Valdarda. Ora, grazie alla pubblicazione online di un video che può essere visto sulla neonata pagina Facebook Veleia e su YouTube, i più curiosi saranno accontentati. Realizzato dai membri dell'Associazione Culturale Valtolla, partendo dalle immagini in PowerPoint create dal grafico Christian Boiardi e dallo storico Manrico Bissi, il filmato della durata di tre minuti con musica in sottofondo si propone di mostrare come doveva presentarsi il villaggio durante l'epoca romana. Un lavoro diciamo che ha preso spunto dal lavoro che è stato fatto in passato da chi architetti, archeologi anche dell'Ottocento si sono succeduti e hanno tramandato a noi una serie di rilievi che sono stati integrati con gli ultimi dati prodotti dalla soprintendenza, quindi delle ultime ricerche. Attraverso quello abbiamo riscritto la pianta di quello che era il foro dell'antica veleia romana e di lì attraverso un programma di ricostruzione 3D abbiamo dato volume a tutto quello che era in realtà una traccia bidimensionale in pianto. Dopo i brevi titoli di testa compaiono i disegni di Giovanni Antolini del 1819 che riproducono la ricostruzione planimetrica e prospettica del complesso forense del villaggio romano. Dopo alcune riprese dall'alto che si focalizzano sul foro ecco che compare la ricostruzione 3D dell'antica piazza con a sud gli edifici amministrativi del villaggio. Sui lati lunghi della piazza protette da un tetto e portici la zona commerciale con botteghe e taverne. Il rendering in 3D mostra inoltre la parte nord del foro che grazie ad un tempietto si collega con l'altra piazza molto probabilmente dedicata alle cerimonie religiose andata perduta. Nella ricostruzione grafica vengono inoltre mostrate le statue equestre che presumibilmente comparivano al centro del foro. Quello che vediamo è il foro di Velleia, quindi la piazza principale seppur molto modesta come dimensioni, attorno alla quale però si sviluppavano e ancora si vedono accanto al foro botteghe, luoghi di culto e poi tutta una serie di isolati abitativi. Almeno questo è quello che è emerso dagli scavi che sono stati compiuti. Dal suo studio, dal suo osservatorio, secondo lei che tipo di vita facevano i veleiani duemila anni fa? Beh, lì Velleia era un insediamento seppur importante perché fu per un tempo municipio e poi divenne un abitato comunque di collina, quindi era una vita, non la vita che immaginiamo della metropoli romana ma di un centro seppur importante ma comunque minore di collina. Grazie.